Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio testare insieme a voi la cipria di Nabla. In particolare, siccome sapete che io adoro tantissimo la cipria di Coty e Spune, da quando la utilizzo non riesco praticamente ad usare nient'altro. È tipo la cipria più fantastica che io abbia mai provato. Quindi quello che voglio fare, oltre che provare questa cipria, voglio metterla a confronto. Quindi metterò su metà viso la mia cipria dorata, sull'altra metà metterò e testerò per la prima volta insieme a voi quella di Nabla. Così vediamo se quella di Nabla è migliore, se regge il confronto, se che cosa succede. Insomma, le paragoneremo. Partiamo dalla cipria Coty che utilizzo io. Questa qui è nel colore Naturally Neutral. L'acquisto su Amazon. Credo sia l'unico posto dove sia reperibile. Non so se qualcun altro sa dove acquistarla, magari ce lo scriva qui sotto. Comunque vi lascio il link di tutte le cose che utilizzo, come sempre, qui sotto al video. Questa cipria è davvero impalpabile, super setosa. Non va a fare l'effetto polveroso sul viso allo stesso tempo, opacizza bene. Ci posso fare sia il baking, sia utilizzarla tranquillamente come una normale cipria sul contorno occhi, sia utilizzarla su tutto il viso. Va benissimo per qualsiasi tipo di pelle e per qualsiasi età. Non è una di quelle ciprie pesanti che messa sul viso va a segnare. Per me è davvero... cioè, tutto quello che cerco nella cipria... sa lì. Vediamo se Nabla regge il confronto. Partiamo con il dire che il packaging è davvero bellissimo, mi piace tantissimo. Questa qui c'è soltanto in un colore che è translucent. Non so se poi farà l'effetto bianco come fanno tante di quelle ciprie trasparenti, appunto. Quella di Coty Spoon, anche quando avevo preso il colore translucent, in realtà non era di quelle trasparenti, quindi poteva essere utilizzata anche per diverse tonalità di pelle, anche se per pelli molto scure io consiglio comunque di prendere i colori più scuri disponibili. Questa per il momento è disponibile solo in questo colore. La cipria di Nabla è 30 grammi, invece quella di Coty è 65 grammi, quindi più del doppio. Il prezzo più o meno è simile, però ovviamente quella di Coty è molto più conveniente. Calcolate che questa io la utilizzo tipo un anno e mezzo tranquillamente e prima che finisce appunto ce ne vuole. Questa qui ovviamente finirà prima perché è meno della metà. Apriamola e tocchiamola insieme. Quello che io faccio con le ciprie, queste in polvere libera, è praticamente apro il barattorino perché voglio prelevarne una buona quantità e appunto dai buchetti non riesco, faccio sempre un grande casino. Però questa di Nabla è molto difficile da aprire, forse è proprio sigillata, quindi dovrò aprirla in questo modo. Andiamola a toccare. Vedendola così è molto molto bianca, molto setosa direi, però potrebbe su pelli medio scure fare un po' l'alone bianco. Io sono chiarissima, quindi su di me non vedremo questo effetto. Vedo che comunque leggermente tende a schiarire, quindi spero che Nabla faccia diversi colori per questa cipra in modo che possa essere utilizzata da tutti. Anzi, se c'è qualcuno che ha una pelle scura, medio scura e utilizza questa cipria, magari scriva qui sotto come si trova e se fa l'alone bianco appunto sul viso. Adesso voglio mettere correttore e fondotinta e poi ovviamente fissiamo insieme le due parti con l'utilizzo della cipria. Ok, questo è il mio viso con fondotinta e correttore applicato. Calcolate che ho delle occhiaie micidiali questo periodo perché sono davvero stanchissima, non mi fermo un attimo. Anzi, dormo anche nove ore ma non riesco a recuperare per tutte le cose che poi faccio durante il giorno, quindi diciamo che il mio viso ne sta un po' risentendo. È anche leggermente disidratato, anche se bevo, non lo so, quattro litri d'acqua al giorno. È semplicemente un grande periodo di stress. Comunque, sulla parte destra andrò a mettere la Coty Air Spoon e invece sulla sinistra andrò a mettere la cipria di Nabla. Inizio fissando la zona del contorno occhi nella parte destra, quindi stendo il correttore, le pieghette che si sono formate nel frattempo e fisso questa zona. Vado anche qui sul naso. Fisso anche la zona della palpebra superiore. Me lo chiedete sempre che primer utilizzi per gli occhi? Non utilizzo primer. Faccio in questo modo, metto un po' di correttore e la cipria e questo è il mio primer. Poi vado a prendere un pennello e con questo pennello vado sul resto del viso. Non utilizzo tanta cipria, io ho una pelle normale, vi ripeto, in questo periodo è leggermente disidratata, quindi non ho bisogno di tanta cipria. Vado a stendere anche le pieghette che si sono formate sulla fronte, nel frattempo non riesco neanche più a parlare. E metto la cipria anche in questa zona. Perfetto, metà del viso è fissato. Adesso prendo un po' di cipria di Nabla. Questo è perché odio fare in questo modo, perché poi tutta la cipria che rimane sul tappo non riesco a rimetterla dentro. Quando apro il barattolo succede un grande casino. Comunque non fa niente. Prendo sempre con la stessa spugnetta, ma questa volta la ruoto dall'altra parte in modo che non si mischino le due cose, le due ciprie. Faccio la stessa identica cosa. Sono curiosa di sapere, sicuramente in tanti già avrete provato questa cipria. Come vi siete trovati? Come vi state trovando? Che effetto vi dà sul viso? Fatemi sapere perché sono molto curiosa. Ruoto il pennello dall'altra parte e anche qui fisso tutto il viso. Prima impressioni a caldo. Viste da lontano non mi sembra di hanno due effetti diversi. Anzi, sembra che io abbia applicato la stessa cipria su tutto il viso. Se vado a toccare la sensazione che ho sulla parte del viso dove ho messo quella di Coti è una sensazione molto più naturale. Invece da quest'altra parte sento che la cipria... come vi posso spiegare? Le avete mai toccate le ciprie HD, tipo quella di Make Up For Ever che andava un sacco di tempo fa? Quando le toccate le sentite quasi setose. Questo è l'effetto che dà questa cipria. Però allo stesso tempo noto che la cipria di Nabla mi ha asciugato leggermente di più il viso. Quindi potrebbe essere un pro o un contro. Siccome l'ho applicata un secondo, anzi le ho applicate un secondo fa, adesso voglio terminare il mio trucco per vedere come si applicano anche le cose al di sopra di questa cipria. E ci aggiorniamo tra un secondo. E questo è il risultato con il trucco completato. Ma quanto è bello il rossetto che ho messo in questo momento mi piace tantissimo. Diventerà tipo uno dei miei preferiti del momento. Ve lo lascio in descrizione di Gerard Cosmetics. Tornando alle nostre ciprie. Non vedo questa grandissima differenza, almeno per il momento. Mi sembra che si comportino nello stesso identico modo. Le uniche cose per cui sono ancora più a favore della cipria di Coty è perché c'è molto più prodotto all'interno e perché c'è una scelta di colori più vasta. Mentre questa qui ovviamente è la metà, è made in Italy. Questa qui non so se è made in China. Se la cosa può darvi fastidio, quella di Nabla è made in Italy, quella di Coty è made in China. Però qui dentro c'è molto più prodotto e appunto potete scegliere molte più colorazioni. Mentre questa di Nabla purtroppo c'è soltanto questo colore. Quindi spero appunto che facciano nuove colorazioni. Per il momento si stanno comportando nello stesso identico modo e non riesco a dire wow qui vedo tutta questa differenza. Quindi o ci aggiorniamo direttamente a fine giornata se sul mio viso non cambia nulla oppure se inizio a notare delle differenze tra qualche ora a metà giornata, non lo so, vi aggiornerò in un check. Quindi per il momento questo è quanto ci vediamo tra qualche ora. Ok ragazzi sono passate ormai tante ore da quando abbiamo applicato le nostre due ciprie e voglio aggiornarvi su tutta la situazione anche perché praticamente sul mio viso non è cambiato assolutamente nulla e devo essere sincera non vedo nessunissima differenza tra la parte destra e quella sinistra. Alla fine dei conti il risultato è che queste ciprie si comportano nello stesso identico modo. Come scegliere tra una o l'altra? Può, non lo so, può influenzarvi il prezzo, quindi la quantità della cipria, può influenzarvi il fatto del colore, può influenzarvi il fatto che il nabble è più facile da reperire magari nei negozi vicino a voi se volete proprio toccare la cipria con mano. Però vi devo dire che queste ciprie si comportano esattamente nello stesso identico modo. Giusto per darvi una guida rispetto ai colori della Cotier Spoon, io adesso sto utilizzando la Naturally Neutral che è praticamente chiara a base gialla. Prima utilizzavo la stessa però translucent mi pare si chiamasse. Quella lì ok è trasparente però leggermente a base rosata. Ve la consiglio se avete una pelle chiara, medio chiara che però ha un sottotono freddo. Se avete il sottotono giallo vi consiglio di prendere quella che utilizzo io, altrimenti insomma regolatevi con i colori, ci sono gli swatches online, basta che scrivete il nome del prodotto come sempre e swatches e vi compaiono i vari colori, magari anche applicati su diversi tipi di pelle. Quindi niente, questo è quello che penso alla fine di queste due ciprie. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, comunque sia stato interessante. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate delle due ciprie, se ce l'avete, se l'avete provate. Se il video vi è piaciuto ricordatevi come sempre di spolliciare all'insù oppure di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!